Bella ragazzi, sono Erma e benvenuti in questo, spero, ultima puntata della Minecraft Parkour Mapipa 40 Jumps, sigla. Allora, nello scorso episodio erano rimasti qui, questo blocco viola è un checkpoint, io ne devo tipo, via, ok, olè, perfetto, dovevo andare qui, ok, perfetto, ok, andare lì, no, no, perché mi salta così tanto, perché, ok, vai, olè, su, perché questa parte è facile, non fare cagate, ecco, appunto, questo di non fare cagate, vaffanculo, ok, no, il lag, dai, vaffanculo, ok, ci risiamo, dai, sì, sì, perfetto, Ora, ehi, questo come lo faccio, no, ma non lo devo fare tutto con la rincorsa, dai, cioè, duh, dio, olè, perfetto, andiamo qui, andiamo qui, olè, Sì, cosa ho fatto, ho fatto un volo della madonna, eh, vaffanculo, ok, quindi, devo andare sempre dritto, ma perché faccio un volo della madonna, perché, perché faccio un volo della madonna, Vaffanculo, però, un salto devi fare, mongolo, olè, vai, ok, dio, ah, inner, duh, ti prego, ti prego, voglio finire la mappa, voglio finirla, non ce la faccio più, Ti prego, ti scongiuro, non ce la faccio più, oh, sì, 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 e mo dove devo andare, sì, che culo ce l'ho fatta, e mo, aspetta, devo guardare, devo andare qui? Sì, sì, sei un folle, sei un folle, sei un folle, sei un, sei enormemente folle, sì, 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 ti prego, sì, sì, ma ma se muoio adesso le bestemmie, Ok, dove devo andare, no, ok, siamo qui, beh, questo è facile, questo è facile, ok, quindi, oh, le, sì, sì, Checkpoint, checkpoint, sì, sì, checkpoint, sì, sì, checkpoint, sì, e mo, no, cos'è sto schifo, dove devo andare? Ok, da qui, sì, immagino di dover andare lì, perfetto, ero un bel doppio salto e sono morto, perfetto, Via, ok, dai che è facile, perfetto, e mo? Dove devo andare? Dove devo andare? Non capisco, Giuro, non penso che devo andare lì, no, dove devo andare? Bah, ok, dopo ore di riflessione ho capito che devo andare lì, quindi devo prendere la link corsa da qui e saltare così, ole, poi da qui, non so dove debba andare, devo andare lì, Sirius, poi da qui devo andare lì, da qui devo andare, no, sei un folle, sì, 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 lì c'è traguardo, Aldiamo il volume, ok, cos'è? Che mi dà, no, mi dà slowness 80.000, vai, 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 che è? Che è? Finito? Sono morto, ma una volta finito? Bleh, uiii, olle, your score is, punto esclamativo, perfetto, quindi, vediamo qui i testi che non abbiamo premuto, comunque qui tipo spiegava ogni blocco il funzionamento, quindi spero che questa serie vi sia piaciuta, se siete così vi invito a lasciare un bellissimo like e un commento, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi, wiii!